Buonasera, nella lezione di oggi parliamo di una parola che è la trasletterazione fonetica della parola alfa, alfa in cinese e che viene utilizzata in o come una parola greca oppure per in alcuni marchi come l'Alfa Romeo o come nel programma Alfa Go. Vi auguro una buona serata, un like e una sottoscrizione che mi aiutano con il canale e a presto.